Volontari bonificano la spiaggia del Cavaliere. Domenica 9 maggio sono scesi in campo 70 volontari, tra cui le associazioni AEC, Associazione Ecoculturale, Madre, Fenice, Greenpeace, C.I.E.T., Radio Siani, Gruppo Scout Torre del Greco, Controcorrente e Onde Creative. Tutte associazioni provenienti da Torre del Greco, Napoli, Pozzuoli e dall'Agro Nocerino. Dalle 9 del mattino alle 14 hanno tutti lavorato incessantemente per ripulire dai rifiuti il tratto costiero di Torre del Greco, noto come Gildarella Cavaliere. Oltre ai volontari attivi sulla spiaggia sono stati coinvolti anche operatori del centro-sub Torre del Greco ed Arcipesca, che via mare hanno contribuito nella bonifica del fondale. Il tutto con il supporto costante della Capitaneria di Porto e con il patrocinio del Comune di Torre del Greco. I volontari hanno raccolto oltre 100 sacconi di rifiuti plastici, tra cui ciabatte, polistirolo, giocattoli e molte bottiglie e tanti altri scarti abbandonati sulla spiaggia e in mare. Inoltre sono stati rinvenuti circa 300 kg di ingombranti, fresti in torica, artongesso e vetro resina. In totale una tonnellata di spazzatura occupava il breve tratto della spiaggia storica torrese. Questa è stata la quinta tappa del progetto Cambiamola Noi, in cui i giovani volontari dell'AEc ripuliscono zone storiche di Torre del Greco, troppo spesso abbandonate al degrado e all'inciviltà. Aree come il sito archeologico delle Centofontane o la passeggiata Portoscala. Tutti simboli delle ricchezze culturali e paesaggistiche della nostra città, ma costantemente simbolo di incuria e abbandono.